Letture in braille, Vangelo tradotto nella lingua dei segni e drammatizzato da persone diversamente abili e i ministranti con sindrome di Down sull'altare intorno a Papa Francesco. È stata una messa speciale, come ognuno dei presenti, quella celebrata in piazza San Pietro per il giubileo degli ammalati e delle persone disabili. Il pontefice ha parlato delle malattie e dei tanti interrogativi che esse suscitano sul senso dell'esistenza, soprattutto quando paiono assurde e non meritate, sugli atteggiamenti che si mettono in atto in situazioni di dolore, dal cinismo eccessivo alla fiducia estrema nella scienza e nella medicina, spesso accessibile a pochi, ma poi ha esortato a confidare di più nell'amore, capace di guarire la sofferenza del corpo e quella che tocca lo spirito e lo rende triste. È sempre una questione d'amore, ha affermato Bergoglio, non c'è un'altra strada. Quante persone disabili e sofferenti si riaprono alla vita appena scoprono di essere amate e quanto amore può sgorgare da un cuore anche solo per un sorriso. Amare, ha aggiunto il pontefice, vuol dire anche accogliere, non scartare, non oscurare ciò che è imperfetto. Meglio tenere queste persone separate, nascoste, in qualche recinto, magari dorato o nelle riserve del pietismo e dell'assistenzialismo, perché non intralcino il ritmo del falso benessere. In alcuni casi, addirittura, si sostiene che è meglio sbarassarsene quanto prima, perché diventano un peso economico insostenibile in un tempo di crisi. Ma in realtà, quale illusione vive l'uomo di oggi quando chiude gli occhi davanti alla malattia e alla disabilità? Egli non comprende il vero senso della vita, che comporta anche l'accettazione della sofferenza e del limite. Il mondo non diventa migliore perché è composto soltanto da persone apparentemente perfette, per non dire truccate. Ma quando crescono la solidarietà tra gli esseri umani, l'accettazione reciproca è il rispetto.